No! 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 Spacco tutto! Spacco tutto! Spacco tutto! Spacco tutto! Spacco tutto! Spacco tutto! Non puoi buttare all'aria! Non puoi buttare nel cesso! Nel cesso! Hai buttato una partita nel cesso! Avete buttato una partita nel cesso che fino al novantesimo ce l'avevamo in pugno! Ce l'avevamo in pugno! Ce l'avevamo in pugno e l'avete buttata nel cesso! nel cesso nel cesso ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo video post partita di Lecce Parma 2 a 2 svegliatemi non lo so è un sogno svegliatemi perché questo è un sogno io non mi ricordo una partita del Lecce con il doppio vantaggio al novantesimo eravamo 2 a 0 abbiamo sprecato non so quanto abbiamo sprecato non so quanto abbiamo sprecato e la pareggi la pareggi la pareggi ragazzi prima di parlarne vediamoci un attimo almeno la sigla eccoci qua allora cioè della partita non puoi dire un cazzo non puoi dire un cazzo di questa partita perché sarebbe inutile parlare dei 90 minuti prima del casino che abbiamo fatto è inutile parlare dei 90 minuti prima dove avevamo la partita in mano non puoi perché cosa cazzo vai a dire cosa cazzo vai a dire perché dopo l'hai rovinata sarebbe inutile sarebbe inutile sarebbe solo una sviglionata sarebbe sarebbe solo suonare un violino non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile mi viene solo da spaccare tutto mi viene mi viene solo da spaccare tutto da spaccare tutto hai avuto l'occasione di chiuderla di fare un 3 a 0 eri sul 2 a 0 hai avuto l'occasione davanti alla porta almeno tre volte di buttare quella cazzo di palla dentro e chiudere la partita e cosa fai Cristovic cosa fai cosa fai Cristovic cosa fai cosa fai non lo sai neanche tu cosa fai non lo sai neanche tu cosa fai non lo sai neanche tu ragazzi scusate mi sono incazzato nero sono incazzato nero sono incazzato nero sono incazzato nero e non so più cosa dirvi non so più cosa dire non so più cosa dire hai fatto una partita guarda parliamo ne proprio 30 secondi della partita hai fatto una partita che si qualche errorino perché il Parma è una squadra molto veloce è una squadra molto veloce e ti ha messo in alcune occasioni ti ha messo in difficoltà però alla fine sei riuscito a chiuderla bene in difesa l'hai chiusa benissimo benissimo l'hai chiusa poi poi complimenti al Parma e allora complimenti al Parma perché ci ha creduto fino alla fine ci ha creduto fino alla fine e l'ha buttata dentro due volte già San Falcone gli ha chiuso la porta almeno tre volte gli ha chiuso la porta almeno tre volte che ci ha salvato il culo ci ha salvato poi manco non ci ha chiuso ne potete aiutare più neanche Santo Ronzo ci poteva aiutare più neanche Santo Ronzo in porta ci poteva più aiutare neanche Santo Ronzo ci poteva aiutare più ragazzi sono incazzato nero scusatemi ma sono incazzato nero io non so più cosa dirvi guarda questa partita non è commentabile non è commentabile perché sarebbe inutile parlare delle cose belle che ci sono state le cose belle ci sarebbe anche da dire qualcosa su qualche giocatore ma non mi va non mi va perché hai buttato una partita nel cesso questa è una partita presa e buttata nel cesso sono due punti che a fine campionato porca e poi miseria pesano vabbè ragazzi io davvero ho voluto fare il post video il post partita così un attimo anche per sfogarmi perché altrimenti già non riuscirei a dormire ma anche solo per sfogarmi perché davvero ho il cuore qua ho il cuore qua e ho sudato l'anima sto sudando ancora l'anima sto sudando e non è possibile non è possibile buttare nel cesso una partita così ragazzi grazie per aver visto questo mio video scrivetemi nei commenti cosa pensate ma posso già immaginare i vostri commenti però scrivetelo per favore non fatemi sembrare il pazzo di turno che si sta sfogando così scrivetemi anche i vostri sfoghi nei commenti per favore iscrivetevi al canale e supportate il canale per favore supportate il canale e mettete tanti like e condividete il video condividete sto video perché deve arrivare ai calciatori che hanno buttato nel cesso una partita deve arrivare ai giocatori sto video vabbè ragazzi comunque resta sempre il fatto forza lecce sempre e in dubbio questo non c'è mai mai il dubbio di non dire forza lecce sempre forza lecce siamo solo alla quinta dobbiamo avere fiducia però abbiamo buttato all'aria due punti abbiamo buttato nel cesso una partita e sì quindi stavo per chiudere il video dicendo magari qualcosa di carino però è buttato all'aria nel cesso una partita è buttato nel cesso una partita ma che